La demolizione del viadotto Fornaca sull'autostrada in direzione Roma ha suscitato qualche polemica. Il sindaco di Tornimparte Gian Mario Fiori ha fatto presente che in occasione di demolizione e pose in opera dei viadotti il traffico da e per Roma transita per la zona ovest dell'Aquila sino al casello di Tornimparte. Da tempo, ha sottolineato il primo cittadino, il comune di Tornimparte e l'abitato di Sassa subiscono notevoli disagi per l'uso dell'unica viabilità alternativa al tratto di A24, ben consapevoli tuttavia che la messa in sicurezza dei viadotti è comunque molto necessaria. Il sindaco ha fatto notare che in occasione della demolizione del viadotto Fornaca alle 6 del mattino all'interno dell'abitato di Villa Grande c'è stato il caos, con moltissimi mezzi e una circolazione impossibile davvero da gestire. Fiori ha richiesto con insistenza la realizzazione della variante al centro di Villa Grande di cui è soggetto attuatore la provincia dell'Aquila, chiedendo pure che le chiusure autostradali siano definite in modo più accurato. Intanto il gruppo Toto ha spiegato l'intervento, un'operazione che arriva dopo la ricostruzione in 13 mesi della carreggiata apposta anch'essa abbattuta. L'operazione rientra nel piano dei lavori di ricostruzione adeguamento antisismico in corso su altri viadotti. Negli ultimi 13 mesi Toto ha abbattuto altri tre viadotti, due sono stati riaperti completamente, fa il punto la holding. Il viadotto Fornaca è uno dei primi costruiti sulla rete A24-A25 che ha resistito anche al terremoto del 2009. Il nuovo viadotto conserverà il tracciato e la conformazione del vecchio, ma sarà ricostruito con criteri più avanzati e sarà adeguato alle più recenti normative sismiche sulle costruzioni. Grazie a tutti.